Pensando all'esito, il Belgio non è indirizzato a uno Stato federale, è indirizzato alla dissoluzione di quello Stato e che può anche essere giusto, il Belgio è un'espressione, spero che non ci sia qui l'ambasciatore del Belgio, il Belgio è un'espressione geografica che ha avuto una sua ragione d'essere perché era una potenza colonialista, aveva il Congo belga, oggi quando non c'è più il Congo belga le due comunità tendono abbastanza naturalmente a distinguersi e a muoversi verso la loro vocazione naturale, anche linguistica, come si diceva prima. Ma quello che conta è quello che tu chiamavi lo spirito, per citare ancora Montesquieu, la molla, il ressort, cos'è che mette in moto? Il federalismo, quello storico, quello a cui ci riferiamo, gli Stati Uniti, la Germania, il riferimento al federalismo tedesco dopo la caduta del muro è l'esatto contrario di ciò che sta accadendo da noi. Allora, là, si è creato un grande moto unitario di fratellanza, caduto il muro, il motto, noi siamo il popolo, vi ricordate? Popolo tedesco. Qui la molla che muove i discorsi federalisti al di là delle ragioni di Luca Ricolfi, che sono di altro tipo, diciamo importantissimi, ma non si muovono su questo piano di questione. Qui la molla è di tipo disaggregativo, com'è giusto che sia, cioè, voglio dire, com'è razionale che sia quando, partendo da una situazione unitaria, si vuole arrivare a un risultato federalista. Perché quel risultato federalista presuppone prima la disgregazione e poi eventualmente l'aggregazione. Ma qui stiamo mettendo in moto un processo che ha dentro di sé delle forze che non so se saremo in grado di controllare. Perché, guardate, la coesione sociale è una cosa molto importante. Si fa di tante cose, si fa di sentimenti patriottici, di ideali comuni e si fa anche di risorse comuni. Ma le risorse. Prendiamo la sanità. Ha ragione Marco Ricolfi nel dire che in realtà questo è un finto federalismo. Come? Luca, scusami, no, Marco è il mio collega, ma ti ho associato nella colleganza. Il lavoro fraterno fa sì che tu non ti sia adontato di questa confusione. Dicevo, il meccanismo è legato al fatto, il meccanismo che si immagina, per farlo molto semplice, è legato al fatto che ci sarà una raccolta del gettito tributario fondamentalmente dato alle regioni, con gli accertamenti devoluti ai comuni, lì c'è la grande speranza che questo sistema renda più responsabile, eccetera, eccetera. Ma comunque, la grande raccolta della finanza pubblica si fa nelle regioni, secondo la ricchezza prodotta nelle regioni. Poi interviene un fondo perequativo in mano allo Stato, ma qui ci vuole lo Stato forte, non lo Stato forte nel senso di autoritario, perché se si blocca quel meccanismo, il risultato è che le regioni ricche restano ricche e le regioni povere rimangono povere. È una scommessa sul buon funzionamento dello Stato centrale che noi oggi non ci possiamo permettere di fare, non solo perché lo Stato centrale è percorso da quelle tendenze dissolutorie, dissolutive, di cui diceva il professor Fisichella, ma perché la logica del federalismo messa in moto è tale che questa logica non fa certo affidamento sullo Stato centrale. Questo per dire che siamo in una situazione molto difficile, dobbiamo, secondo me, fare opera di ragionevolezza e di prudenza, cercando di cogliere gli aspetti migliori che la parola federalismo ha messo in moto e gli aspetti migliori sono i sentimenti, le aspirazioni che vengono da questi ragazzi che pensano che lì, come? Questi qui non sono ragazzi? No, no, perché qui possiamo anche constatare una differenza generazionale, quelli che hanno la nostra età sono assai più perplessi e quelli che sono, come? Ti consideri un ragazzo? Non esageriamo. Questi sono ragazzi. Questo cittadino torinese è stato assai più prudente dei ragazzi, perché avrete notato che ha detto che io sono entrato, lei è entrato in questo lavoro comune, con molte perplessità, e ne è uscito meno spaventato. Meno spaventato. Beh, voglio dire, non è la sua posizione equivalente, questo deve darci delle speranze, perché effettivamente il nostro paese ha bisogno di, possiamo dire, di ricostruirsi. E se si ricostruirà, sarà sulla base delle energie e delle speranze di quella generazione, non più della nostra. Ma per concludere, no, ho ancora un minuto prima di arrivare alla conclusione, ma dicevo, il federalismo non mi pare che sia così concepito la risposta giusta, ma anche per una ragione semplicissima. Qui siamo tutti d'accordo che in tema di diritti fondamentali deve valere un atteggiamento universalistico. Ma questo è il contrario del federalismo. È l'esatto contrario del federalismo. C'è poco da fare. Il federalismo, storicamente, è legato all'idea del territorio, della territorialità dei diritti. Evocare oggi, terzo millennio, un'idea così legata ai territori, e quindi alle popolazioni stanziali, mi sembra un assoluto anacronismo. Perché oggi i diritti sono diritti umani, noi qui ne abbiamo parlato nella prospettiva italiana, ma naturalmente questi diritti vanno anche al di là. Per esempio, il diritto alla sanità, il servizio sanitario per un ammalato che non è in grado di farsi curare nelle strutture italiane, prevede il rimborso delle spese per farsi curare in una struttura straniera. E questa è l'universalità dei diritti. Col federalismo non c'entra niente. Questa struttura, questa prospettiva per l'avvenire ci indica che noi abbiamo bisogno di un governo delle questioni fondamentali sempre più ampio. Naturalmente che non faccia scomparire le identità locali, ma le identità locali le faccia confluire in una prospettiva più ampia. Ma guardate quello che è successo, concludo, con la questione dei migranti. Ma il federalismo legato al territorio darebbe a certe regioni, darebbe a tutte le regioni, il diritto di dire, no, io controllo le mie frontiere. Ma è quello che sta accadendo sulla logica sbagliata, secondo me, del federalismo legato al territorio. Noi abbiamo bisogno di altro genere di federalismo, federalismo funzionale, dove tra piemontesi e calabresi non ci sia differenza legata al fatto che siamo casualmente nati o qui o là. Ci troviamo uniti o divisi a seconda dei bisogni, delle prospettive, delle professioni, delle aspirazioni. Quello è un altro tipo di federalismo. Stiamo riproponendo un'idea vecchia e anche molto pericolosa. Dicevo, a cosa abbiamo? Le regioni del Sud, che per ragioni puramente geografiche si devono prendere, si devono accollare questo obbligo di solidarietà nei confronti di questi nostri fratelli, esseri umani come noi, molto simili a noi. guardateli in faccia. Forse sono anche più belli di noi, certe volte. Ma a parte questo, che cosa accade? Ci sono certi bambini meravigliosi, non so se avete notato. Ma voglio dire, la logica del federalismo, naturalmente, non è che oggi si parli di questo problema, ma la logica è che ciascuno ha casa propria. propria, ecco. La formula, quante volte l'abbiamo sentita evocare? La formula a casa nostra, nel terzo millennio. Vi sembra ancora una cosa ragionevole? Bene, sull'idea della casa propria ci sono certe regioni che non vogliono assumersi il peso della solidarietà, che invece altre regioni si devono assumere per ragioni geografiche. E poi, il governo che, boh, qui c'è la riprova di quello che diceva Fisichella, e tutti quanti, guardate un po', si rivolgono all'Europa. Che è un paradosso, perché il vero federalismo vorrebbe dire noi affrontiamo ciascuno di questi problemi da noi. Difatti, i veri federalisti, quelli duri e puri, diciamo, ottocenteschi, italiani, normalmente l'Europa la guardano con diffidenza. E invece, in questo caso, per non essere coinvolti in una questione che le mette in difficoltà politicamente, inalberano la bandiera della sovranità territoriale, cioè del federalismo, per dire non a noi, ma all'Europa. C'è un paradosso, c'è un vero e proprio paradosso. concludo, che cosa volete che... No, no, concludo in questo, questa mattinata, molto interessante, naturalmente, però non venga buttata via, salviamo le esigenze, i desideri, le speranze che vengono, scusi, dai più giovani, ma cerchiamo di indirizzarle dove occorre e dove è utile indirizzarle, facendo attenzione, per esempio, a certi risultati perversi, insomma, il tema del professor Fisichel, continuo a riferire a lui per una stranissima sintonia su questi, perché siamo tutti e due lettori di Domeistra, allora forse andiamo ad accorso. Questo tema della vicinanza, ci sono delle funzioni che per natura loro non devono essere collocati troppo vicine agli interessi settoriali, per non dire qualche volta interessi anche criminali, per non rimanere nel campo più brutto del crimine. Pensiamo alla gestione dei parchi nazionali. I parchi nazionali sono da sempre sotto pressione delle amministrazioni locali che rivendicano la gestione dei parchi, sapete perché? Perché vogliono rilasciare licenze edilizie. E allora che cosa è più utile? Che certe questioni e certe funzioni siano allocate oppure allontanate. Ecco, è tutto un quadro molto problematico. Quando con Luigi Bobbi abbiamo scelto questo tema sapevamo che sarebbe stato molto controverso e anche molto difficile perché aspetti ideologici si collegano a aspetti molto tecnici. Credo che il risultato di questa mattina dal punto di vista della presa di coscienza e consapevolezza sia un successo. Visto che si parla di 2019, 2018, eccetera, potremmo riproporre questo tema per biennare democrazia tra due anni. ringrazio ringrazio no ma si sente ringrazio a tutti i partecipanti quelli che sono stati sul palco e voi dalla sala che avete in qualche modo animato con domande con numerosissime domande grazie a tutti. Grazie.